buona sera a tutti benvenuti come di consueto al webinar del lunedì delle ore 18 di investire punto biz io sono luca di scacciati e vi parlo dalla sede svizzera di investire punto biz con me c'è il buon riccardino zago che oggi si è anche pettinato ragazzi ha una camicia normale e questo insomma gli fa tanto onore come stai chi ha luca molto molto bene grazie mille inizia bene la settimana ottimo sono contento anch'io sono stato una settimana lì nella sede di malta e ce la siamo anche goduta perché ci siamo anche fatti gli ultimi giorni di mare prima che arrivasse definitivamente l'inverno anche a malta quindi è stato molto molto bello abbiamo avuto anche degli ospiti molto simpatici quindi siamo stati molto molto bene ma direi di condividere subito lo schermo di riccardino e passare a parlare delle opportunità che i mercati ci stanno offrendo per questa settimana entrante hai già qualcosa da cui vuoi partire o mi fai partire a me dalle cose che preferisco che preferirei partiamo dalle cose che preferisci poi anche io chiaramente le mie cose da vedere però confrontiamoci intanto io vorrei dare uno sguardo a il bitcoin perché tu nello specifico hai fatto una previsione dicendo a tutti i venti che secondo te entro fine mese arriverà sui massimi storici e devo dire che insomma in realtà ho detto la settimana scorsa eravamo intorno ai 47.000 48.000 ho detto che nel mese di ottobre toccherai 60.000 questa era una previsione che ho fatto ma dopo uno studio tecnico insomma questo era il mio obiettivo di ottobre e ci sta si sta avvicinando perché ragazzi in questo momento siamo a 57.400 il trend devo dire che sembra in salute vuoi condividere con noi l'analisi che ti ha portato a pensare questo così da condividere anche con tutte le persone che come sempre sono tantissime al webinar del lunedì assolutamente sì se non sbaglio l'avevo già detta velocemente l'altra volta oggi la la ripetiamo comunque uno studio della price action prima però chiedo se audio e video comunque se vedete il mio schermo così possiamo ok sembra tutto regolare ma adesso sicuramente arriverà tutto ok ci dice fabio ok allora io sono partito da un'analisi settimanale inizialmente partendo dal supporto in area 30.000 ricordo che noi e anche chi all'interno del gruppo traders club a day long da 33.000 e da 45.000 quindi tutto sommato sta andando bene detto ciò però l'analisi era la seguente da questi minimi in area 30.000 i prezzi sono ripartiti con forza infatti abbiamo assistito a questo impulso abbastanza interessante che ha portato i prezzi da 30.000 a 52.000 un rialzo molto importante e quindi come sempre io cerco di individuare la fine del ritracciamento per poi valutare anche di incrementare le posizioni che cosa è successo che guardate questa zona come ha funzionato molte volte tutta la zona compresa tra i 40 e i 42.000 dollari altro supporto che evidentemente ha funzionato detto ciò dopo un'analisi di questo tipo sul time frame settimanale sono andato sul time frame giornaliero quindi ci spostiamo sul D1 dove chiaramente la fase di ritracciamento presentava massimi e minimi via via decrescenti come potete vedere qui fin quando c'è stato questo doppio minimo in area 41.000 quindi nella fascia che abbiamo spiegato appena adesso insomma quella compresa tra i 40 e i 42.000 esattamente in mezzo si è fermato e da qui che cosa è successo è successo che il canale ribassista che si era formato è stato rotto e io me lo ricordo proprio quel venerdì ero davanti al computer mi ricordo questo aumento incredibile di volatilità che caratterizza poi sì bitcoin ma i cambi di direzionalità di bitcoin in pochi minuti si passa da si fanno migliaia di punti proprio perché la volatilità è alta e con questa candela sul D1 ho insomma fatto la mia previsione che poteva arrivare tranquillamente alla zona dei 60.000 dollari entro 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 il mese vi vado a far notare anche un'altra cosa chi ha fatto il corso di trading con Ichimoku più price action insieme a me lo sa bene grazie all'indicatore target indicator noi andiamo a tracciare degli scenari in automatico in maniera molto comoda e veloce andiamo a tracciare degli scenari insomma e quello che viene fuori andando a congiungere il punto A da dove è partito l'impulso con il punto B dove è finito l'impulso e iniziato il ritracciamento poi andiamo a tracciare anche il punto C dove chiaramente qui è finito il ritracciamento quindi la fase ribassista ecco che abbiamo diversi obiettivi rialzisti di medio termine come possiamo notare i primi due obiettivi sono sui massimi precedenti proprio proprio in corrispondenza dell'ombra tra l'altro super quindi io ho detto bene vediamo se arrivano sui massimi precedenti però almeno a 60 ci arrivano e quindi ho fatto un po di scommesse mi mangerò un po di pizza in più che palle che palle di nuovo massimi storici di bitcoin arriva quel quel momento in cui sono tentato di venderli ma si sta tanto bene quando bitcoin è lì che si è altino però non così alto così non ti viene il dubbio non non perdi il sonno a pensare oddio cosa faccio li vendo ma no ma arrivo migliore e senti l'angioletto da una parte che ti dice ma vendili dai mettili porta a casa i soldi e il diavoletto no no devi essere avido arriverà un milione puoi diventare veramente ricco capito quindi arriva quel momento bastardissimo in cui davvero la notte invece di pensare a dormire si pensa cosa fare del bitcoin ma io tengo perché io sono un bitcoin enthusiast e porterò questo bitcoin fino al milione come avevi detto qualche mese fa tra l'altro esatto esattamente esattamente io la profezia l'ho fatta quindi qual era ripetila un milione entro dieci anni quindi nel 2030 entro il 2030 se arrivasse anche domani non è che mi dispiacerebbe assolutamente però però entro il 2030 un milione e lo spero dateci conferma che si veda lo schermo per favore perché c'è paolo che dice non si vede lo schermo ma dovrebbe assolutamente vedersi fabio dice ah si vede tutto perfetto a posto bene quindi ragazzi dai siamo rialzisti su bitcoin la strategia di accumulo degli ultimi mesi ha funzionato siamo siamo contenti e via io mi aspettavo sinceramente quest'ultimo rialzo non mi aspettavo che arrivasse adesso dico la verità pensavo che ci sarebbe stato un ritorno in area 30.000 ma mi sono sbagliato questo è una lezione nel senso che il trading e l'investimento sono due cose separate quindi se nel caso del bitcoin come delle azioni per esempio degli indici il trading è il trading gli investimenti di lungo termine sono investimenti di lungo termine quindi per esempio se anche sul dax io penso che possa esserci un ribasso il mio piano d'accumulo i miei investimenti di lungo li faccio comunque perché prevedere i mercati è possibile ma è altrettanto possibile sbagliarsi e il caso di bitcoin è un caso appunto in cui io per esempio mi sono sbagliato e lo ammetto senza nessun tipo di problema bene facci vedere qualcosa che sbagliandoti comunque hai guadagnato un sacco di soldi lo stesso assolutamente no no ma infatti che poi quello che ho sempre detto è io il grosso lo investo e una più piccola parte la utilizzo per fare trading quindi assolutamente molto meno rischioso investire rispetto che a fare trading voglio concludere concludo un attimo qui e andiamo a rompere i massimi precedenti per chi vuole mantenere le posizioni ulteriormente infatti anche noi adesso valuteremo se chiudere il 50 per cento piuttosto che chiudere il tutto in ogni caso dopo i 65 mila abbiamo il target finale l'estensione massima almeno di questo impulso ritracciamento in area anzi diciamo il numero preciso eccolo qui 76 mila e 500 dollari questo è il target finale per insomma questo questo impulso di tracciamento individuato sul time frame settimanale attenzione non è che ci arriva direttamente può fare chiaramente massimi e minimi decrescenti e quindi può anche scendere ancora bene 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 ragazzi tutti pronti alla nuova stagione su netflix del bitcoin perché evidentemente potrebbe davvero esserci un ritorno grande all'interesse come sempre quando arrivano i nuovi massimi bene 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 decidi tu riccardo se andare a vedere un indice la tua scelta oppure l'euro dollaro sull'euro dollaro una cosa molto interessante da farti vedere perché come sai ogni inizio settimana aggiorno le posizioni degli institutional e volevo farti vedere ecco euro dollaro oh bene allora io ti direi fai tu un'analisi poi mi prendo lo schermo e ti faccio vedere qualcosa di molto interessante allora io euro dollaro lo sto tenendo d'occhio vabbè chiaramente come ogni giorno è stata rotta questa zona molto importante in area 1.16 e 1.16 e 50 sostanzialmente 1.16 e 60 con un attimo che vado a fare uno zoom con questa bella candela ad alta volatilità che conferma quindi il trend ribassista e ogni ritracciamento può essere un'opportunità per andare a comprare dollari americani quindi per vendere euro dollaro i prezzi hanno ritracciato anche solo che non hanno ritracciato abbastanza comunque non mi sono preso il rischio di entrare al ribasso anche se devo dire si poteva valutare anche uno short intorno alla zona degli 1.16 1.16 e 20 però volevo attendere un ritracciamento o comunque un rimbalzo un po' più sostenuto in ogni caso la mia view è ribassista e qualora dovesse esserci un ritorno qui in area 1.16 e 20 1.16 e 30 io uno short lo farei quindi sono sono rialzista sul dollaro sono rialzista sul dollaro americano tra l'altro bitcoin molto forte perché nonostante il dollaro americano si apprezzi bitcoin si apprezza di più bene 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 prendo lo schermo riccardo perché sarai felice di sentire quello che ho da dirti infatti vediamo un attimino si sta già vedendo il mio schermo sì perfetto ottimo qui siamo sul cot report di euro dollaro quindi dei future su euro dollaro se ti ricordi già praticamente da questi livelli stiamo parlando di 1.23 1.24 avevamo detto che i book i portafogli degli istituzionali si stavano scaricando e stavano andando verso lo short su euro dollaro effettivamente questa tendenza ha continuato a funzionare in questo modo e proprio con l'ultimo cot report abbiamo una conferma che gli istituzionali si stanno posizionando sempre di più short su euro dollaro quindi sono d'accordo con la tua visione ma ti dirò di più c'è davvero un bel potenziale di discesa su euro dollaro perché intanto tutti gran parte dei trader retail sono posizionati long quindi sono a rialzo 76 per cento l'abbiamo visto la settimana scorsa sul dax dove erano tutti long 93 per cento di trader long e il dax ha fatto dei minimi importantissimi qui che cosa abbiamo abbiamo l'euro dollaro appunto con 76 per cento di trader posizionati long segnale assolutamente ribassista e per rispondere anche a marco che chiede quale target avete su euro dollaro ecco qua ragazzi per il target ribassista io sto utilizzando il nuovo indicatore bit time e l'area assolutamente dove secondo me i prezzi di euro dollaro arriveranno è questa qui appena sopra appena sotto 1 e 14 quindi in questo momento siamo a 15 68 abbiamo 150 pips abbondanti da fare al ribasso se poi invece di entrare adesso entrate magari in area 1 e 16 dove potrebbe essere che i prezzi rimbalzino beh abbiamo 200 pips da fare due figure di euro dollaro da fare ho fatto vedere nell'ultimo webinar se ve lo siete perso andate recuperarlo perché è stato molto molto interessante appunto trading time trading ho fatto vedere come faccio io ad utilizzare questo indicatore come faccio ad utilizzare questi livelli in breve qui abbiamo lo stocastico che ci aiuta a capire se c'è segnale o meno di inversione qui al momento non abbiamo nessuna segnale di inversione quindi tra alti e bassi è molto probabile che i prezzi facciano qualcosa del genere quindi abbiamo davvero tutto che quadra nella direzione dello short sentiment trading istituzionali con le posizioni dei loro portfolios e analisi chiamiamola spazio temporale chiamatela come volete insomma qui abbiamo un bellissimo supporto dove i prezzi stanno puntando e vi faccio notare come su questi livelli i prezzi hanno sempre rimbalzato per bene questi livelli sono sempre usati per come supporto e come resistenze quindi una volta rotto un livello e in questo caso è stato rotto è stato rotto per bene guardate qua è proprio questo livello una volta rotto da questo candelone che faceva vedere anche prima riccardo è stato usato come punto di rimbalzo ora il prossimo target è qua questa è la zona di arrivo e ma che belli che sono questi livelli però è ancora non ti ho convinto ad usarli quindi perché vedo che ancora non non li vedo così spesso ma sai che mi serve un po di tempo per capire per prendere confidenza eh lo so lo so che te non ti fidi mai di me all'inizio ma poi alla fine mi dici ma sai che dodici anni fa avevi ragione io ti dico e grazie al cazzo no comunque a parte gli scherzi su bitcoin mi fido ti ho seguito ecco ecco tenete presente appunto che se lo volete l'indicatore lo potete avere perché lo diamo in abbonamento ok quindi qualsiasi strategia utilizzate quei supporti quelle resistenze fanno paura quindi se vi interessa potete averlo e vi potete abbonare semplicemente abbonamento semestrale oppure se volete risparmiare il 20 per cento potete fare l'annuale vi mando nella chat il link e se vedete la registrazione trovate il link nella descrizione del video molto molto interessante ragazzi è fichissimo ti voglio far vedere un'altra cosa visto che c'ho già io lo schermo ne approfitto non dovrei far vedere questa cosa perché in teoria è solamente per gli abbonati al cotreport ma siccome questa settimana di segnali dal cotreport ce ne sono stati tanti vorrei farti vedere questa questa situazione molto interessante perché siamo su dollaro yen il dollaro yen ha fatto nuovi massimi con un calo drastico di volumi questa cosa era successa esattamente al contrario su euro dollaro quindi qui me lo devi dire tu siamo arrivati alla fine del trend rialzista su dollaro yen è il momento di shortare prima di farti vedere di lasciarti la parola vorrei farti vedere il grafico perché 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 andiamo a vedere il grafico settimanale per vedere se ci sono se ci sono dei livelli interessanti ma ahimè a livello tecnico il nostro mitico indicatore il primo livello è 122 quindi diciamo che non ho in questo momento delle resistenze dove shortare o gli istituzionali che si stanno posizionando short che attenzione che stanno chiudendo i long perché guardate qua sono ancora long vedete che gli istogrammi sono nella parte alta del grafico vuol dire che mediamente la posizione aggregata è ancora long però stanno chiudendo i long come ci possiamo comportare in questo modo tu cosa faresti ti passo attenzione poi tra l'altro i retail sono tutti short ovviamente ovviamente fatemi dire basterebbe questo tool qua per 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 guadagnare con il trading è incredibile io sono anni che lo dico in pochissimi mi ascoltano poi regolarmente una volta a settimana qualcuno mi scrive su instagram e mi dice luca ma sto facendo trading con il sentiment trading da un mese faccio un sacco di soldi e io ma va io lo faccio da anni quindi lo so benissimo detto questo però ti passo la parola riccardino che magari ci fai un'analisi e ci aiuti a capire se questo trend è in dirittura d'arrivo oppure meglio stare attenti e magari perché no a posizionarsi long riprenditi pure eccolo qua dovreste vederlo allora west di yen lo stavo guardando proprio questa mattina diciamo che la debolezza sullo yen insomma si è vista particolarmente quest'oggi infatti abbiamo uno west di yen che sta salendo veramente molto e per forza dobbiamo andare ad analizzare anche dei time frame superiori in molti chiedono degli indici poi andiamo a vedere anche gli indici senza vediamo il problema detto ciò dobbiamo allargare il grafico per capire dove ci troviamo in questo momento ci sono delle resistenze qui vicino è vero il bit time non ne segnala però io qui ne vedo vado prima però ad eliminare gli indicatori cimoku che per il momento non ci serve ma poi ci servirà come serve per ogni analisi almeno per quanto mi riguarda detto ciò ok il trend è ben impostato al rialzo però ragazzi noi qui cioè le resistenze ci sono abbiamo i massimi di massimi di settembre 2018 eccoli qui e anche più indietro i massimi di ecco qui anche qui novembre 2017 insomma delle resistenze veramente importanti che funzionano da molto tempo quindi dopo aver visto un grafico del genere cosa faccio allora mi posiziono mi posiziono subito short da questi livelli allora io direi di no innanzitutto vado sul time frame giornaliero e attendo che i prezzi raggiungano almeno il livello di 114 dove adesso andiamo insieme a impostare un alert andiamolo a impostare tasto destro imposta avviso 114 crea avviso tac eccolo qua comunque gli istituzionali stanno facendo bei soldi qua eh perché erano long di brutto e stanno chiudendo gli short bravi hai visto e insomma cosa stavo dicendo ah sì 114 è uno è chiaramente uno dei livelli più importanti in quanto numero tondo quindi psicologicamente potrebbe essere rilevante e attenderò quindi un segnale da parte della price action per valutare uno short per il momento il trend è palesemente rialzista la candela di oggi è sicuramente un segnale è un segnale rialzista vedremo con la candela di domani se questo segnale rialzista sarà confermato oppure sarà un falso segnale però penso che verrà confermato poi anche nel corso di questa di questa settimana entrerò e valuterò di entrare al ribasso solo se ci saranno dei segnali ribassisti quindi che ne so facciamo un esempio una candela con delle ombre molto ampie un corpo molto piccolo che si va a creare all'interno di questa zona che abbiamo appena selezionato 113 70 114 70 lo so è una è una zona abbastanza ampia però insomma sono 100 pip però cerchiamo di capire se ci sarà quel segnale se ci sarà quel segnale di inversione se ci sarà valuterò lo short quindi dobbiamo avere un attimino di pazienza qui secondo me bene 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 c'è una domanda molto interessante e stimolante da parte di gianluca che dice se il sentiment dice il contrario degli istituzionali cosa è più rivela rilevante come informazione allora è una domanda legittima ma stiamo parlando di due tipi di trading completamente diversi perché il sentiment lo possiamo utilizzare per un trading un po più aggressivo un po più di breve periodo il cot e le posizioni degli istituzionali servono per prendere posizioni molto più di lungo termine quindi di base sono due informazioni che possiamo utilizzare assieme ma riguardano veramente due ambiti due stili di trading completamente diversi la seconda cosa che volevo dire è ragazzi valutate veramente di utilizzare il il beats time perché se voi unite i supporti alle resistenze del beats time e il sentiment veramente quando voi per esempio trovate i prezzi su un supporto anzi vi faccio un esempio mi riprendo lo schermo riccardo perché veramente ci tengo davvero visto che stasera tra l'altro siamo proprio in tanti ci tengo a far vedere perché io ricevo sempre un sacco di messaggi su instagram che mi chiedono ma luca ma io vorrei imparare una strategia di trading ve la do questa sera per esempio dov'è che usd cad vi faccio un esempio guardate questo qui mettiamo il template beats intraday che io l'ho chiamato così no di uno usd cad aspetta quale qual era quello che ti avevo consigliato di farlo questo perfetto 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 ecco guardate qua per esempio questa è un'operazione che tra l'altro ha ricevuto ha ricevuto chi ha fatto chi è dentro in traders club perché abbiamo fatto proprio lo short mi pare venerdì no giovedì o venerdì riccardo ma si mercoledì o giovedì abbiamo chiuso venerdì esatto abbiamo fatto mercoledì o giovedì abbiamo chiuso venerdì io non ero d'accordo a chiudere perché avevo dato come target 1 24 però riccardo voleva andare al mare tranquillo e quindi abbiamo chiuso questa è la verità lui dirà che no c'era un target non è vero doveva andare al mare quindi ha detto chiudiamo che così nessuno mi può dire niente ho fatto un target e quindi vado al mare tranquillo a parte gli scherzi guardate in questo caso l'operazione molto semplice i prezzi arrivano su un supporto importante ok i supporti o vengono rotti e il prezzo continua a scendere o il prezzo rimbalza in questo caso perché abbiamo fatto uno short qua perché guardate 72 per cento in questo momento ma similmente era così anche qualche giorno fa erano rialzisti i trader quindi un punto a favore dello short e lo stocastico non aveva dato nessun segnale di divergenza con i prezzi quindi noi qui abbiamo detto questo è sì un supporto importante ma verrà rotto molto probabilmente e quando un supporto molto importante viene rotto i prezzi vanno giù come un sasso ed effettivamente è successo così quindi quello che io vi dico è ragazzi tenete presente che qui avete un indicatore molto 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 bello dove appunto potete utilizzare il sentiment trading nello stesso momento dell'indicatore perché se voi trovate i prezzi che sono su un supporto importante e i trader sono posizionati dall'altra parte in gran parte quindi sopra il 75 bar 80 per cento è un'operazione veramente molto molto probabile da fare cosa significa questo vi faccio un esempio se per esempio i prezzi dell'euro dollaro arrivano qua ok a 1.19 in quest'area quando ci sono due livelli come questo si può tranquillamente usare il prezzo medio tra i due livelli se i prezzi arrivano qui e qui sono tutti long lì tranquillamente si può fare uno short ok quindi questa è una strategia semplice chiaramente ci vuole questo indicatore ma ragazzi veramente lo regaliamo praticamente perché l'abbonamento annuale è una cavolata per quello che poi può dare inoltre inoltre e poi non vi rompo più le palle su questo indicatore ma siccome funziona benissimo ci tengo veramente a spingerlo tenete presente che tutti i mercoledì tra l'altro c'è anche il webinar alle 18 trading con il tempo con alessandro che vi spiega anche come lo utilizza lui strategia che può essere utilizzata anche in intraday bene 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 volevo vedere se c'era ecco guardate per esempio qua guardate per esempio sul sul gbp usd guardate che cosa sta succedendo che tra l'altro vedo con estremo piacere adesso che sta che è appena andato al di sotto dell'apertura giornaliera quindi ottimo esatto esatto guardate qua per esempio qui che cosa abbiamo abbiamo i prezzi che stanno picchiando su questo livello 136 e 30 136 50 questi questo livello qua benissimo cosa abbiamo qua abbiamo una situazione praticamente di pareggio ok questo qui è un è un'operazione short molto interessante tant'è che anche questa l'abbiamo fatta se qui nei prossimi giorni nelle prossime ore diventano più long che short ragazzi non dico che è matematico che scenda ma siamo vicinissimi perché guardate per esempio il dollaro yen andiamo sul grafico giornaliero e ragazzi questo qui sta salendo di brutto quando tutti sono short ok quindi dategli un occhio questa roba qui il bello di questa piattaforma che trovate sul sito kimura trading punto com è proprio questa cioè l'abbiamo fatto mettere apposta questo gra questo tool qua sul grafico così da avere sempre tutto a portata di mano vi faccio per esempio vedere guardate no vi voglio far vedere c'era un altro cambio che mi piaceva tantissimo questo l'abbiamo visto no 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 non me lo ricordo più qual era vabbè niente se mi adesso lo cerco magari mentre tu hai il monitor mentre ci fai vedere qualcos'altro poi casomai mi riprendo lo schermo questo che prendo qua tutto ecco 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 scusa vai riprendi no no vai riprendi sì 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 lo riprendo perché ci tenevo tra l'altro qua ho fatto una scommessa riccardo con filippo di cambiavalute che tu conosci bene cambiavalute è la società con cui cambiamo gli stipendi ai frontalieri quindi facciamo di fatto solo il cambio euro franco siamo iper specializzati nel cambio euro franco anzi ve lo faccio vedere perché è anche è un bel sito guardate cambiavalute praticamente cosa facciamo noi con questo con questo con questo sito qua scambiamo euro e franco molto semplicemente ad un tasso molto vantaggioso per i frontalieri guardate qua questo qui è il grafico giornaliero di euro di euro franco sono tutti long 82 per cento e long e il primo supporto è qui tra 1 e 0 6 insomma questo questo livello qua guardate 1 1 0 6 e 20 questo livello ragazzi questo qui ci andrà e io mi sono giocato cento euro con il mio collega il manager di cambiavalute perché io lo so che va lì e lui dice no secondo me non ci va gli ho detto vabbè scommettiamo scommettiamo quindi ho fatto l'operazione di trading e beccherò anche i soldi del mio collega quindi per dire ho una parte una parte di dovrei spendere e dare a me se bitcoin va a 60 ho scommesso anche con te quanto ci basta no niente non mi ricordo sincero no perché anch'io non mi ricordo di avere scommesso soldi una cena dicono da qui dal pubblico una cena molto volentieri assolutamente un'altra meglio vedi però ho fatto una scommessa intelligente perché 100 gli ho scommessi dove sono più sicuro 50 insomma vado vado comunque a a eggiare no però a parte gli scherzi rapporto rischio rendimento esatto esattamente vedete qui cioè qui abbiamo una calamitona che sta attirando i prezzi e semplicemente vedendo il mercato con questa lente ovvero il sentiment dei supporti molto probabile che ci vada e anche qui che cosa abbiamo qui abbiamo 100 pips da fare sul cambio euro franco che sono davvero ottimi capito quindi quando mi chiedete ma c'è una strategia da utilizzare da non perdere troppo tempo eccola qua ragazzi gli strumenti ve li diamo tutti vediamo vediamo il settimanale prima di ripassarti la parola e guardate qua abbiamo anche qua guarda a poco sotto 106 un altro bel livellone quindi ci sta questa qui è proprio una bella operazione andiamo a vedere l'orario giusto per vedere come siamo messi guardate qua dov'è che dov'è che stanno rimbalzando i prezzi su un'area piena di supporti se questo livello viene rotto come credo si va giù e giù non abbiamo non abbiamo altri livelli perché non abbiamo altro storico sotto qua ma ce l'abbiamo chiaramente sui time frame superiori molto 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 bello vai ti lascio la parola e no basta abbiamo finito direi per oggi o dovevamo vedere qualcos'altro e indici non ne abbiamo visti direi di andare a vedere un daxettino almeno un nasdaq o tutte e due se vuoi rimaniamo qui sul mio grafico che faccio vedere una cosa interessante allora allora tra l'altro nel frattempo volevo dire una cosa mercoledì mi accompagna trading live ci sarà giancarlo prisco quindi faremo anche un po di scalping quindi per chi può partecipare a trading live vi aspetto mercoledì così facciamo un po di operazioni e c'è anche poi la live luca se la fai vedere sul sito si c'è la sessione di scalping all'apertura dei mercati alle 8 e 45 chiaro i mercati aprono alle ore 9 però insieme a giancarlo prisco andremo operare in diretta bene 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 ottimo allora vi voglio far vedere la combo di nasdaq ed ax perché vi faccio vedere questo perché sul nasdaq abbiamo come primo target abbiamo questa media mobile qui a 200 periodi ok che già da tantissimo tempo non viene toccata quindi abbiamo un trend che è partito al ribasso un ritorno sotto questo livello importante il primo livello secondo me è questo qui e secondo me il nasdaq andrà a toccare questo livello cosa significa questo se il nasdaq va a toccare questo livello il germany il dax non è che può salire quindi qual è la questione che se il nasdaq scende e il dax li va dietro il dax è messo un po peggio perché è già su una soglia estremamente importante che questa dei 15 mila dove abbiamo sia la media mobile a 200 sia il nostro livello del bit del bit time se rompe si va tranquillamente su quest'altro livello quindi c'è un potenziale di discesa dai prezzi attuali di del lo vediamo subito dell'otto e 50 per cento ok che sarebbe anche lo vediamo anche da qui un bel meno 13 14 per cento dai massimi ok quindi contando che ancora nonostante i ribassi nonostante i rimbalzi 93 per cento dei trader è posizionato long sul dax secondo me ci sono buone chance che qui venga giù tutto ancora cosa ne pensi riccardo e cosa ne pensate anche voi da casa è cioè scriveteci per favore nella chat qual è la vostra opinione vai a prendere l'S&P 500 per favore arrivo niente io ho una view di breve termine almeno ribassista quindi ho una posizione neanche tanto grande su S&P 500 e US 500 eccolo lì se riesci a zoomare un pochettino certo siamo sciolta da questi livelli sostanzialmente e con uno stop comunque molto stretto sopra i massimi della settimana scorsa puntiamo almeno ai 4300 punti come target primario per poi chiaramente valutare di portare a casa parte della posizione e lasciar correre i profitti fino alla media mobili a 200 o magari anche poco più in alto quindi come possiamo vedere abbiamo iniziato ad assistere a massimi e minimi via via decrescenti sull'ultimo ritracciamento dai 4300 fino ai 4375 4380 abbiamo individuato dei livelli tecnici interessanti a mio avviso per entrare short siamo entrati short anche grazie all'indicatore cimoku e quindi ci rimaniamo pure vedremo dove andrà questo S&P 500 primo obiettivo attenzione S&P 500 cash 4300 punti questa è la mia view per il momento bene una zona che mi piace molto perché è praticamente la zona delle ombre quindi come target è perfetta perché sappiamo benissimo che dove ci sono le ombre ci sono appunto un forte accumulo di ordini che di fatto funge da calamita per i prezzi lo spunto rialzista potrebbe appunto essere terminato e anche qui abbiamo una preponderanza di posizioni long quindi diciamo che abbiamo quantomeno le probabilità a favore ragazzi io vi ricordo che se volete aprire un conto trading con lo stesso broker che utilizziamo noi se volete avere questa piattaforma con il sentiment e tutti gli strumenti che utilizziamo noi www.kimuratrading.com trovate se state vedendo la registrazione anche il link in descrizione a se no a chi sta partecipando adesso l'ho appena mandato in chat è possibile o provare una demo se volete scaldare un po i motori con un conto finto dove non rischiate niente oppure se volete già mettervi in gioco con soldi veri potete aprire un conto vero mi raccomando sempre col cervello però non fate cagate e fate le cose fatte per bene ci vediamo domani su investire.biz date sempre un occhio agli appuntamenti così da seguire se volete tutti i nostri tutte le nostre iniziative riccardo fai tu i saluti ragazzi grazie mille a tutti anche oggi siete stati arrivati in tantissimi noi vi aspettiamo domani sul sito ricordatevi mercoledì io e Giancarlo Presco andremo a fare un po di scalping sugli indici ma l'appuntamento più importante è giovedì mattina sempre insieme a Giancarlo Presco perché andremo a fare scalping in apertura qua cioè quando bisogna fare proprio quindi quando c'è la volatilità e i volumi buona serata a tutti ciao a tutti